Furto, tentato furto, danneggiamento e tentata rapina. Di questi reati è indagato un giovane di Barcellona Pozzo di Gotto, arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Milazzo in flagranza per tentato furto aggravato. È stato individuato a San Filippo del Mela, in piazza Boris Giuliano, dove i militari si erano recati dopo la segnalazione giunta al 112. Il giovane si era appena introdotto in una parrucchieria per rubare i registratori di cassa. Vedendo l'arrivo dei carabinieri ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. La refurtiva è stata recuperata e consegnata al proprietario. Il sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Ascali, ha disposto il carcere per il giovane, visto che negli ultimi giorni era stato oggetto di indagine per vari furti, un danneggiamento ed una tentata rapina a Barcellona Pozzo di Gotto. Si era infatti introdotto in varie attività commerciali, tra cui una panetteria, un noto ristorante della zona ed una rivendita di kebab. In altre due circostanze invece aveva rubato da due auto due zaini, uno contenente una carta di credito con la quale ha poi effettuato acquisti ed uno con attrezzature sportive ed uno shopping mode Apple Watch. Si era anche reso autore di una tentata rapina ad un distributore di carburante. Aveva minacciato i gestori con un coltello per farsi consegnare l'incasso, ma vista la reazione dei titolari ha desistito e mentre scappava ha preso solo poche monete sopra una pompa di benzina utilizzate per dare il resto ai clienti. Il giovane è ora presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Patti hanno effettuato controlli lungo le principali arterie stradali dei territori dei comuni di Patti, Gioiosa Marea, Brolo e Piraino. Due persone sono state denunciate per guida sotto l'influenza dell'alcol ed uno per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ad entrambi è stata riterata la patente di guida con la contestuale segnalazione alla prefettura di Messina. Altre denunce per furto aggravato di genere alimentari rubati da un esercizio commerciale di Patti e per furto in abitazione.